The Football Story presenta le leggende del calcio, Roberto Rivellino, meglio noto come Rivelino, nato a San Paolo il 1 gennaio 1946, è un ex calciatore di ruolo centrocampista o attaccante, nonché allenatore di calcio brasiliano. Centrocampista dotato di grande tecnica, eccelleva nel dribbling, spesso effettuato con il gesto tecnico dell'elastico, di cui è considerato l'inventore. Era inoltre famoso per i suoi potenti tiri di sinistro e le punizioni dalla lunga distanza. Possedeva anche una grande visione di gioco che gli permetteva di servire all'occorrenza i suoi compagni con precisi cross. Giocava principalmente come trequartista, pur sapendosi adattare bene al ruolo di ala sinistra o a quello di esterno destro di centrocampo. Rivellino fu scoperto dal Corinthians e giocò nella prima squadra per nove anni. Diventando rapidamente un beniamino dei tifosi, guadagnandosi il soprannome di Oredo Parque, il re del parco, dal nome dello stadio Parque Sao Orge. Tuttavia, negli anni 60 e 70, il Corinthians visse un periodo difficile non riuscendo a vincere il campionato paulista. L'unico titolo di Rivellino in quegli anni fu il torneo Rio-San Paolo del 1966, condiviso con Botafogo, Santos e Vasco da Gama. Nel 1974, dopo la sconfitta del Corinthians contro il Palmeiras nelle finali del campionato paulista, Rivellino fu pesantemente criticato dai tifosi, che lo considerarono uno dei principali responsabili dell'insuccesso. Così, dopo 474 partite e 144 gol con il Corinthians, si trasferì al Fluminense a Rio de Janeiro, dove giocò fino alla fine degli anni 70. Contribuendo alla vittoria di due campionati carioca nel 1975 e 1976, dopo 158 partite e 53 gol, nel 1978 lasciò il Fluminense per trasferirsi all'Ali Ilal di Riad in Arabia Saudita, vincendo il campionato saudita nella sua prima stagione e la Coppa del Principe della Corona Saudita l'anno successivo. Nel 1981, dopo tre stagioni passate all'Ali Ilal, Rivellino, a 35 anni, si ritira dal calcio professionistico. A livello internazionale, Rivellino fu convocato nella Nazionale brasiliana nel 1965, a soli 19 anni, debuttando nell'amichevole contro l'Ungheria. Tre anni dopo, segnò la sua prima doppietta contro la Polonia. Nel 1970, ai Mondiali, giocò un ruolo chiave segnando tre gol, compreso un famoso calcio di punizione chiamato Patada Atomica, dai tifosi messicani. Contribuì anche con un assist nella finale contro l'Italia, che il Brasile vinse per 4-1, conquistando il terzo titolo mondiale. Nel 1972, partecipò alla Minicopa, vincendola con il Brasile. Dopo il ritiro di Tostao, Gerson e Pelé, Rivellino fu parte della squadra brasiliana e i mondiali del 1974, segnando tre gol e raggiungendo la finale per il terzo posto. Nel 1978. A 32 anni fu il capitano della Selecao ai mondiali in Argentina classificandosi terzi. Al ritorno in patria, Rivellino si ritirò dalla Nazionale, totalizzando 26 gol in 92 presenze. Dopo il suo ritiro dal calcio giocato, per un breve periodo allenò lo Shimizu S. A livello individuale, è considerato uno dei più forti giocatori della storia del calcio. Occupa la 38esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo, pubblicata dalla rivista World Soccer, e la 31esima posizione nella classifica dei migliori calciatori sudamericani del XX secolo, pubblicata dall'IFS nel 2004. La FIFA lo ha piazzato inoltre al sesto posto nella classifica dei migliori numeri 10 della storia del calcio. Nel marzo del 2004, Pelelo ha anche inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del centenario della FIFA.